Sono un po' come un treno che sta percorrendo in su e in giù tutta l'Italia e hanno trovato un momento del loro tempo per venire anche al Festival di Sanremo. Loro sono i gemelli diversi. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Noi per Radio Bruno il tempo, lo spazio, lo troviamo sempre. Dall'anno 1998, quindi per Radio Bruno e soprattutto per te. Per te. Eh lo sai, lo sai. Per quanto ti vogliamo bene. Abbiamo un debole. Se me lo diceva Giorgia ero più contento. Chiara a me e ti do anche ragione. Ragazzi voi tornate sul palco del Teatro Ariston questa sera come ospiti ma siete già venuti al Festival di Sanremo. Sì siamo venuti nel 2009 quando c'era Paolo Bonolis. Ci siamo trovati benissimo, è stato un festival per noi, siamo divertiti tantissimo. Con Paolo ci ha detto ragazzi, noi Paolo cosa dobbiamo fare sul palco? Lui ci ha detto ragazzi ma fate quello che volete, fate come se fosse a casa vostra. Quindi siamo divertiti, è stata un'esperienza. Infatti quando ce l'ho chiesto nelle varie interviste come è stato fare Sanremo, dico ma noi ci siamo anche divertiti, ce l'abbiamo presa serenamente, non avevamo nessuna velleità di... Siamo venuti, poi comunque avevamo già alle spalle 10-11 anni di carriera, quindi eravamo molto sereni. Però venire a maggior ragione quest'anno come ospiti con Mr. Rain, che poi dopo magari ne parleremo, è molto più tranquillo. Ancora meglio. Siamo veramente easy, contenti di essere qua, nonostante il marasmo. Il trambusto di Sanremo. Il trambusto di Sanremo che è veramente incredibile ragazzi, incredibile. Il pop, il rap, la trap, grazie ad Amadeus che in questi cinque anni ha portato tantissimi artisti e voi c'eravate già nel 2009. Ma guarda, ritengo molto positivo il lavoro di Amadeus in questi cinque anni, è riuscito a ringiovanire il Festival di Sanremo e comunque i dati lo dimostrano perché comunque tanti ascoltatori sono under 23, quindi voglio dire è stato un lavoro meraviglioso perché le generazioni cambiano, vanno avanti, si cresce, cioè la musica cambia ed è giusto che il Festival di Sanremo debba rimanere al passo. Noi c'eravamo ai tempi, eravamo più giovani chiaramente, però Bonoli si investì anche su di noi perché poi fummo i primi ad usare l'autotune a Sanremo come effetto chiaramente della canzone e non come correzione della voce e quindi diciamo che fu anche quella una cosa abbastanza innovativa a nostro modo. E per voi la musica, anche restando sempre nell'ambito del rap e dell'hip hop, com'è cambiata dal 2009 a oggi? Ma negli ultimi anni è cambiata parecchio, è cambiata veramente parecchio, c'è stato l'avvento della trap che ha un po' rivoluzionato i canoni della urban music non siamo quelli nostalgici che dice, eh una volta si stava meglio, ogni periodo ha la propria musica, no? Poi se a te piace l'ascolti e a chi non piace non l'ascolta, a noi piace comunque avere sempre l'orecchio attuale, cioè andare a cercare ad ascoltare sempre sonorità nuove, infatti nei pezzi che abbiamo fatto anche negli ultimi due o tre anni ci piace mantenere la nostra identità vocale sia a parte melodica che a parte di comunicazione attraverso il linguaggio del rap però ci piace suonare molto attuali, non siamo legati proprio ad essere nostalgici, usare i suoni del 98 però quando facciamo i live, pezzi come Un Attimo Ancora, Mary, Fotoricordo, Tu No, Tu Corri li facciamo sempre, vediamo che la gente comunque non li apprezza, li stracanta con noi, quindi Non è una puntata di più sani e più belli, quindi non vi dico come fate a rimanere così giovani ma vi chiedo invece dell'esibizione con Mr. Rain, come è nata l'idea? Vi ha chiamato lui? Come è andata? Raccontateci Allora, è stata proprio un'idea di Mattia, di Mr. Rain, che ha ritenuto bene proporre un pezzo come Mary e richiederci un pezzo come Mary, che oltretutto noi non l'abbiamo mai dato a nessuno perché siamo molto gelosi di un brano così importante ha pensato bene di chiedercelo per portarlo appunto sul palco dell'Ariston che è un palcoscenico adatto a un brano del genere, soprattutto in questo periodo storico molto difficile riguardo appunto gli abusi e le violenze sulle donne quindi appena ci ha presentato il provino di questa cover riarrangiata dall'orchestra di Sanremo e scritta anche dal maestro Melozzi appena l'abbiamo sentita, brividi, cioè confermamelo cioè pelle d'oca perché è una versione meravigliosa, orchestrale che ti tocca proprio, che ti prende proprio qua, nello stomaco e quindi abbiamo detto sì, questa volta la diamo, lo facciamo, Mary la faremo sul palco dell'Ariston anche perché riteniamo Mr. Rain molto affine alla nostra musica anche lui usa in alcune canzoni il linguaggio del rap, la melodia le produzioni ti toccano dal punto di vista emotivo quindi ci è sembrata la persona adatta, il contesto adatto le tematiche che tratta anche lui nelle sue canzoni sono molto sensibili quindi ben detto, non l'abbiamo mai dato a nessuno ma vi assicuro che è nata nell'ultima tre settimane sta cosa una domenica pomeriggio, il nostro manager che tu conosci ha chiamato è arrivata questa proposta, che vogliamo fare? la domenica, lunedì, gli abbiamo dato la risposta ma non che volessimo pensarci più lì ma volevamo sentire un po' cosa avevano in mente di fare quindi nel giro di 24 ore abbiamo detto ok, organizziamo ragazzi complimenti, anche perché anche il testo di una canzone scritta tanti tanti anni fa purtroppo è ancora attuale però serve sempre grazie ai gemelli diversi la porta di Radio 1 è sempre aperta grazie ragazzi siamo stati film troppo seri però Leo sempre un piacere non mi riconosco ci hai preso abbastanza in giro Leo però era importante, adesso partiamo e facciamo una festa al di là delle telecamere ciao ragazzi ciao ragazzi ciao a tutti